Ok, siamo live, bentornati su Radio Design, la radio dell'Istituto Italiano Design. Oggi sono in compagnia di Manuela Vitulli, che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Manuela. Ciao, un piacere mio, troppo buono. Tu sei un influencer, sei, adesso questa parola è un pochino inflazionata, ma nel tuo caso è vero, posso confermare che è un vero influencer, non come quelli farlocchi e ne parleremo oggi. Ci basiamo oggi su un articolo, una tua analisi che hai fatto, che prende il titolo di, come diciamo, social influencer, comunicazione ai tempi del Covid, feedback e nuovi trend. Hai fatto, diciamo, un piccolo sondaggio tra la tua community e cosa è emerso, cosa è emerso Manuela? Allora, promessa, io ho fatto già un sondaggio simile la scorsa estate, per vedere un po' quali erano i nuovi trend, della percezione, poi a me interessa molto sia per vedere come vengono percepite i miei contenuti, diciamo, ma anche per vedere se è quello che io percepisco degli altri, se la mia community poi concorda con me, perché poi è ovvio che la mia community avrà sicuramente un modo di pensare diverso da quello che può avere un fashion blogger o, che ne so, un food blogger, è ovvio che sono percezioni diverse, quindi a me interessa proprio chi la pensa come me, chi segue me, perché poi diciamo che avremo delle affinità se mi seguono, diciamo, e quindi ho voluto riproporre questi sondaggi, soprattutto perché con la questione Covid, comunque l'utilizzo che abbiamo fatto dei social, del web in generale, è cambiato tantissimo, per cui mi interessava vedere un po' come le persone hanno utilizzato i social, soprattutto Instagram, e poi vedere i nuovi trend, in particolare TikTok, come viene percepito e ho notato che tantissime persone si sono un po' avvicinate, perché prima era più visto come un social per i teenager, ecco. Invece la gente, anche i cosiddetti boomer, hanno iniziato ad utilizzarlo e si stanno anche divertendo sulla piattaforma, perché trovano uno svago, perché ora Instagram è diventato molto più istituzionale e quindi TikTok è quello che era prima Instagram, è un modo per svagare, per divertirsi. Esatto. Sì, no, scusami, ti interrompo, avevo trovato un'analisi bellissima sui trend del 2020 che immagino che adesso siano morti, visto il coronavirus, purtroppo, però speriamo di tornare un po' tutti a viaggiare. In merito a quello che dicevi, su TikTok da questa analisi emerge che il 41% degli utenti è tra i 16 e i 24 anni, quindi diciamo che stai coltivando in qualche modo i viaggiatori del futuro. I viaggiatori del futuro, sì. Allora, all'inizio pensavo questo, devo dire, perché io mi sono iscritta a novembre dello scorso anno, credo, ottobre-novembre dello scorso anno, e devo dire che l'ho molto stato valutata, mi sono iscritta più che altro per curiosità, ho iniziato a pubblicare, non sono un'osservatrice, io poi mi ci butto, ho iniziato a pubblicare. Però vedevo che il pubblico era veramente molto giovane e purtroppo ho constatato che alcuni giovanissimi, ma proprio piccolini, che scrivendo anche velocemente col telefono nemmeno facevano attenzione agli errori grammaticali, buttavano giù il pensiero così come veniva. E vabbè, quindi ci beccavamo anche questi calcioni che per fortuna su Instagram non si vedono così tanto. Invece adesso, proprio durante la quarantena, mi sono accorta che sono arrivati tantissimi commenti di gente veramente adulta, quindi evidentemente questo periodo di stallo a casa ha fatto sì che tanta gente curiosa, come lo sono stata io a novembre, si iscrivesse e veramente tanti commenti di gente adulta. E poi io credo anche che l'algoritmo di TikTok, che è diverso da quello di Instagram, faccia sì che i contenuti che appaiono poi nei per te, che è un così... Sì, la sua gestora di Instagram, siano contenuti che appaiono anche in base all'età. Infatti a me non appaiono mai contenuti di ragazzini, mi appaiono soprattutto contenuti di gente più grande. Ora, sempre dalla tua analisi hai, diciamo, emerso, se ho capito bene, poi ci lo spieghi meglio tu, che ovviamente il contenuto è sempre più importante, nel senso che ora che dopo i primi anni, soprattutto di Instagram, diciamo, diverse persone hanno provato, hanno tentato la strada, diciamo, dell'influencer, tra virgolette, ora emerge veramente chi ha un valore reale e chi no, cioè chi è in grado di creare dei contenuti di valore per la propria community e invece chi ovviamente si è perso per strada. Esatto, poi soprattutto la quarantena ha, diciamo, che ha fatto sì che si creasse una linea netta tra chi aveva dei contenuti, quindi qualcosa da raccontare e aveva appunto anche qualcosa da dire durante questo periodo difficile e chi invece si è spento, poi sento alcuni colleghi che dicono, ah ok, non ho comunicato perché io non sapevo nemmeno se fosse giusto farlo, ok, però io penso che se questo è il tuo lavoro, cioè è un lavoro fare i content creator, possiamo poi decidere di sparire per due mesi. Non sarebbe nemmeno corretto nei confronti della gente che ci segue, ci ha dato quindi fiducia, ci stima, quindi è quello che io e tante altre persone che hanno deciso di seguire questa scia, hanno continuato comunque a creare, cambiando modo di comunicare ovviamente. E la cosa che ho notato, proprio nei commenti che mi sono arrivati, e comunque anche altri colleghi mi hanno dato ragione su questo, è che ora il contenuto comunque vince, perché nel mare magnum di influencer vari, adesso ormai il pubblico è molto consapevole, quindi tutti sappiamo, quando abbiamo davanti a noi una marchetta, quando si sta proponendo un brand, come si sta proponendo quel brand, quindi l'advertising ormai la conosciamo, la riconosciamo facilmente, però come viene fatta questa pubblicità? E questo è anche importante, se questo prodotto viene proposto solo perché è lavoro, o perché veramente si crede in quel brand, in quel prodotto, eticamente in linea con l'influencer, quindi questo che cambia tanto, è che purtroppo io sono più di sette anni che faccio questo lavoro, quindi ho potuto anche capire, vedere un po' come si stava evolvendo questo settore, anche perché sono partita da blogger, poi pian piano sono diventata, diciamo, anche influencer, però ecco, sono cresciuta un po' con questo lavoro, invece chi subito è partito da influencer, diciamo che molte persone ambiscono solo ad avere il prodotto a casa e promuoverlo, però non si può arrivare lontano in questo modo. Sì, probabilmente chi è nato come blogger adesso è molto più preparato a superare, credo, una fase del genere, perché è più abituato a creare un contenuto che sia più articolato, cross-mediale. Poi ho visto che tu hai spinto molto di più anche sui video ultimamente, raccontaci anche questo, nel senso, dove sta andando, diciamo, il trend, se l'immagine conta ancora, se il video è più... Allora, io sono un'affezionata dell'immagine, diciamo, perché sono partita da sempre, amo Instagram, e per me Instagram doveva anche rimanere solo immagini, poi per carità le storie mi prendono, mi piacciono, e mi piacciono anche i video, sono sincera. Però chi, per esempio, è partito direttamente con i video su Instagram, quindi magari è un account più giovane, io vedo che va molto bene con i video, perché ha abituato la sua community alla creazione di video, e quindi video che comunque ingaggiano molto, è molto diverso da chi invece è partito da Instagramer puro, diciamo i vicoletti, quelle cose che andavano molto cinque anni fa, tipo, e quindi fa molta più fatica adesso a proporre contenuti di questo tipo. Io e altre persone che come me sono partiti col blog, diciamo che siamo molto più versatili, perché ci siamo un po' dovuti adattare nel corso degli anni anche al cambiamento dei trend. Per cui chi come me cerca un po' di adattarsi, anche di sperimentare, quindi non seguire la scia semplicemente, ma sperimentare e cucire poi su di noi stessi, sul nostro stile comunicativo, poi quel social, riusciamo un po' a resistere. Però io credo che la chiave sia appunto questa, cercare di capire un po' quelli che sono i trend, e poi scervellarsi un po' per far sì che quel trend possa essere in linea con noi, quindi non piegarsi a fare i balletti su TikTok, per dire, a quarant'anni, possiamo anche fare i balletti. No, ma infatti anch'io mi sono iscritto a TikTok, ho visto un pochino come si sta evolvendo la cosa, e penso che avrà un grandissimo sviluppo anche per noi anziani, anziani, tra virgolette. Tantissimo, poi per talità, ogni tanto qualche video goliardico ci sta anche, cioè è lecito farlo, li faccio anche io, però ognuno di noi poi deve sviluppare un po' quello che è il suo trend. Io per esempio continuo anche a proporre tanti video di viaggi, anche video fatti col drone, video così, e devo dire che poi sono i contenuti che vanno per la maggiore, nonostante TikTok non sia nato per quello. Quindi proprio l'altro giorno mi è arrivato un commento di un ragazzo, non so quanti anni avesse, appena iscritto, e mi fa, ma questo non è Instagram, una cosa del genere mi scrive, faccio guarda che comunque questi video su di me funzionano, infatti sono i video che hanno raggiunto 100.000 views sul mio profilo, con 11.000 follower, cosa che invece su Instagram, su cui sono molto più seguita, non ho mai raggiunto, perché comunque ora l'algoritmo di TikTok premia tanto, e poi sono una cosa che favorisce anche l'iscrizione di tante persone. a differenza di Instagram. Ma infatti secondo te, diciamo, avere un'influenza su TikTok è più difficile proprio per via dell'algoritmo, nel senso che premia molto di più il contenuto piuttosto che il personal branding di una persona? O il contrario forse? No, secondo me invece avere un'influenza su TikTok adesso è semplice paradossalmente, perché se ci si impegna ogni giorno, si pubblicano dei contenuti, è facile. Io onestamente non ci perdo molto tempo rispetto a Instagram, eppure sono riuscita a crescere senza passarci tanto tempo, pubblicando tipo un contenuto al giorno, massimo due, e a volte sono anche contenuti che vengono da Instagram magari, però premia perché ovviamente ora, favorendo con il suo algoritmo, permette di avere tanti iscritti, perché la gente vuole crescere, è curiosa. Nel momento in cui, secondo me, raggiungerà degli altri risultati, quindi inizierà a crescere anche in Italia, sarà diverso. Io la vedo così. Certo. O come Instagram, che all'inizio premiava tutti, all'inizio il contenuto girava anche per due settimane, mi ricordo certe foto del Salento che giravano per due settimane, adesso sì e no, un contenuto è una vita di 24 ore, un posto. Infatti sì. Tu poi ti poni la domanda, è finito il momento di Gloria e degli influencer? Come rispondiamo a questa fatidica domanda? Un po' risposto prima, nel senso che, appunto, questo periodo ha posto una linea netta tra chi continua a creare i contenuti e chi no, o meglio, chi è capace di continuare a creare i contenuti anche in un periodo un po' difficile di crisi, quindi a far compagnia alla propria community, e chi no. Quindi, secondo me, continueranno a vivere, a resistere coloro che si sono dimostrati capaci di fare questo. E ce ne sono stati tanti veramente bravi in gamba che hanno proposto tanti contenuti intrattenendo. Ci siamo fatti compagnia anche, è una cosa molto bella. Allora, noi ci siamo conosciuti, forse proprio sette anni fa, quando avevi iniziato da poco. Sì, sette anni fa, è vero, è vero. Non mi ricordo. Infatti lì ero scettico, invece tu sei una grande perché hai continuato sempre e sei diventata quello che sei, quindi complimenti. Grazie. Ma ti chiedo oggi, dopo questi sette anni, diciamo, di arco temporale, dove nessuno avrebbe forse immaginato che Instagram sarebbe diventato quello che è, TikTok non c'era ancora. Ora, secondo te, è impossibile fare sempre una previsione, però nei prossimi cinque anni il viaggio si racconterà sempre tramite un blog, i social media, o secondo te ci saranno altre forme, forme nuove di racconto? Oppure dove vai il trend? Allora, quando ci saranno altre forme di racconto, questo è poco ma sicuro. Diciamo che Instagram ormai sono dieci anni che c'è, quindi può essere che resisterà. Io prevedo un'evoluzione un po' stile Facebook, quindi un po' un declino, comunque un cambio generazionale, per cui o Mark, il caro nostro Mark, inizia a implementare, come ha fatto anche un po' di tempo fa con le stories, quindi ha rubato da Snapchat per poi inserire le stories all'interno di Instagram, potrebbe fare lo stesso con TikTok, cosa che so che sta già facendo, inserendo già le challenge, quindi tra un po', se non sbaglio, può inserire anche la possibilità di creare dei video direttamente dalle stories, quindi fino alla fine potrà cercare di avere sempre la meglio e vedremo. Certo è che, come adesso ci sono tanti video e vanno sempre di più i video anche rispetto al passato, sicuramente ci sarà un'evoluzione, vedremo, però io sono sicura che bisognerà cercare sempre di cavalcare l'onda e tutto sta cambiando super velocemente. Allora, a livello di numeri, ti volevo chiedere, io immagino che paradossalmente durante questa fase in cui tutti eravamo online, almeno io nel mio lavoro ho visto un incremento pazzesco dei numeri, non so se tu hai notato questo, se per te è stato lo stesso, se sei riuscita a avere un incremento nonostante poi il tuo target sia persone che viaggiano, quindi magari amano vedere persone che viaggiano. Allora, no, in realtà io ho visto, quello che ho visto per quanto riguarda me, soprattutto parlo di Instagram, ho visto un rafforzamento della community, quindi persone che hanno iniziato a seguirmi ancora di più, a interagire di più, me l'hanno anche detto che in questo periodo magari avevano più tempo per seguire, per dedicarsi i contenuti, però dal punto di vista dei numeri non ho visto un incremento, ma secondo me è perché chi segue tanti influencer abbiamo creato tutti i tantissimi contenuti e non solo gli influencer, anche persone comuni, normali, che fanno tutt'altro nella vita. Quindi a volte ci siamo sentiti per prima bombardati, per cui non siamo nemmeno riusciti a seguire tutti quanti, quindi magari c'era un rapido calo dell'attenzione e credo che questa cosa sia, è capitata anche a me, sarà capitata anche agli altri, per cui io non ho visto questo incremento astronomico dei contenuti, però qualcuno me l'ha detto, quindi forse dipende un po' dal tipo di pubblico che sia. Adesso faccio una domanda provocatoria. In base ai numeri ho visto che la tendenza delle aziende è rivolgersi ora un po' di più ai micro-influencer, visto che tu hai superato determinati numeri, quindi non possiamo più definirti micro-influencer. Hai notato uno spostamento, diciamo, delle aziende verso i micro-influencer? Com'è cambiato il tuo rapporto con le aziende o sei rimasto uguale o hai migliorato? Allora, diciamo che dipende dai punti di vista, nel senso che io per alcune aziende sono una micro-influencer, perché ora ci sono un influencer da un milione, sono tantissimi quelli che hanno un milione di follower, 500, 600 mila, quindi dipende un po' dal metro di giudizio, perché anche per me un micro-influencer è una persona che ha 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 follower, ma proprio volendo esagerare. Invece per alcune aziende io, nonostante ho più di 100.000 follower, sono una micro-influencer, nonostante abbia anche l'account verificato, per dire. Quindi dipende dai punti di vista. Quello che però ho notato tantissimo, proprio il cambio, ecco, il trend del 2020, si diceva che era questo, e lo sarà ancora, è che le aziende cercano di creare un rapporto a lungo termine con l'influencer. Quindi, al di là del fatto che sia un micro o un macro-influencer, cercano di far sì che quel rapporto sia duraturo e che sia quindi credibile anche la partnership, che non sia una cosa one-shot, per cui poi la persona sa, l'utente, la community, sa che sta collaborando con quel brand solo per essere pagato, in poche parole. E devo dire che è una cosa che aiuta tanto sia a me, a livello proprio di credibilità, ma anche proprio perché mi affeziono io al brand, riesco a raccontarlo in maniera diversa. Quindi è una cosa in cui, credo, per fortuna, con diversi brand ho instaurato questo tipo di rapporto. Io ti ringrazio, so che abbiamo un tempo brevissimo. Se vuoi qualche altra domanda riusciamo, eh? Riusciamo, riusciamo a fare qualche altra domanda. Se hai qualche altra domanda vai, vai tranquillo. Diciamo che più o meno abbiamo detto tutto quello che volevamo. Adesso tu quando ripartirai, nel senso come viaggiare ora? Sarà complicato? Non so se i confini sono aperti di nuovo. Sì, allora anche se i confini si dice che sono riaperti da giugno, però io onestamente non credo che ripartiranno delle strategie di comunicazione da parte degli enti del turismo a breve. Se tutto va bene, forse partirà qualcosa in Italia, però io noto che giustamente tutti gli enti del turismo mi stanno muovendo un po' con attenzione e con cautela, anche perché non si sa poi e la situazione cambia dall'oggi al domani. Quindi è tutto in divenire. Per quanto mi riguarda, opinione personale, io, lo stanno dicendo tutti, preferirei viaggiare in Italia, ma proprio preferirei viaggiare con l'auto, cioè spostarmi con l'auto, anche perché ho visto certe scene degli aerei, volare adesso non è un'esperienza così piacevole come una volta. Quindi finché non è certo che si possa volare in sicurezza, io non so quanto sia consigliabile farlo. Domanda un po' più tecnica. Nel tuo lavoro, quanto pesa, diciamo, la tua attività di copy? Quanto viene pagata l'attività di copy? Come scrittrice, diciamo, di viaggi? E quanto pesa la tua attività da influencer? Questa è una domanda molto bella che non mi fa mai nessuno. Molto interessante. Però penso sia interessante, perché uno affianca sempre più lavori, diversifica. Ma sai cosa? Che tu che mi conosci da più tempo, sai questo, però molte persone ormai pensano a me solo come influencer, senza sapere che magari scrivo per alcune testate, faccio anche altro nella vita. Ovviamente il lavoro di influencer è pagato di più, molto di più. Ecco, questo già è un dato interessante. Quindi quell'attività è più pagata della scrittura, vera e propria. Sì, a me piace tanto scrivere, però purtroppo al giorno d'oggi non si può vivere di quello. Quindi diciamo, stiamo parlando di un 70-30. Anche 80, mezzo. Incredibile. Come mai, secondo te, la scrittura, che è un grandissimo, enorme valore, penso proprio in Italia, non venga valorizzato come si deve? Allora, un po' perché la gente legge meno. Ok. Appunto, con questa bulimia di contenuti sui social, la gente legge meno. Quindi magari, posso dire, se io creo un contenuto su Instagram post, magari l'azienda dà valore al mio contenuto, me lo paga di più, perché sa che c'è anche sotto un testo, una caption, che è scritta con cura. Però non possiamo dire che mi viene pagato quel testo, mi viene pagato il contenuto in toto anche con l'immagine, per cui non fa testo. Un articolo sul blog, invece, devo dire che, ma sono addirittura scesi i prezzi, perché è come se adesso la gente sia più interessata a vedere altri tipi di contenuti, quindi vengono proprio valutati meno gli articoli, ma anche per altre testate. molte persone scrivono più che altro per un vezzo personale, ma non per un compenso, ecco. Quindi sempre più visual e sempre meno testo? Purtroppo sì, cioè, a me piace tanto il visual, per carità, però la scrittura, io sono partita perché mi piaceva scrivere, sono partita, ho iniziato a fare questo lavoro, però il visual ha sempre la meglio. Va bene, allora io spero che questo analfabetismo funzionale si riduca a favore della scrittura, speriamo che per il tuo lavoro forse un po' meno, non lo so. Mi sa che per il lavoro di tutti io scrivo poco, anche se gestisco magazine, eccetera, però... Ma poi è strano, anche perché a livello di SEO la scrittura è importante, quindi forse le aziende neanche capiscono questo, probabilmente. Esatto, esatto, e il problema è questo, che molte aziende, io tante volte provo anche a proporre anche l'articolo, che so già che me lo pagheranno molto di meno rispetto ad un altro tipo di contenuto, ma proprio le aziende non capiscono che quel contenuto, come dicevamo prima, un contenuto su Instagram, non lo propone, ma anche il post, anche se rimane lì, ma chi lo ripropone più poi alla fine, quel post dopo 24, massimo 48 ore, non lo vedrà quasi più nessuno, a meno che viene il curioso sul tuo profilo, si rispulcia un po', però non è che se ne vede tutte le immagini, invece quel post sul blog, se poi si indicizza bene, lo sai benissimo, finisce in prima parte di Google, o comunque finisce nella SERP, si indicizza bene, oltre al fatto che io posso poi riproporlo nei miei canali social, col tempo, come ho fatto con tanti altri post che ho scritto in passato, articoli del blog, però non è una cosa, evidentemente molti non sono vecchi a scuola, quindi queste cose non le sanno. Tornerà, il testo tornerà in auge, io lo spero. Vedremo, per esempio sono tornati in auge tanti podcast, e infatti adesso molte persone preferiscono, oppure abbinano l'articolo al podcast, perché molte persone possono ascoltare più che leggere. Esatto, io per lavoro lo faccio, quindi sono contento che tu l'abbia detto, esatto. No, no, a me piace molto il podcast, io sono pro podcast, anche perché magari mentre sei preso a fare altro lo faccio sempre, mentre faccio altro è ascolto un podcast, effettivamente abbiamo più tempo così anche per prendere altri contenuti, perché quante persone poi hanno tempo per leggere. ci stai dicendo che questo è uno scoop che tu stai sviluppando un po'. No, no, onestamente, sono sincera, mi piacerebbe, ci penso da un po', però non ho il tempo materiale per fare anche questo, cioè veramente mi dedico già a troppe cose, quindi non ce la farei, però mi piacerebbe. Va bene, magari ci becchiamo una volta ogni due settimane e lo facciamo così il podcast. Va bene, va bene, si può fare. Ti ho lanciato l'idea. Va bene, grazie, mille, non ti distruggiamo ulteriormente, buona creazione di contenuti. Una bella chiacchierata. Grazie, ciao, buon lavoro. Grazie altrettanto. Ciao a tutti.